I fatti risalgono al 13 ottobre 2009. Elena Artioli, assieme ad altri esponenti dell'opposizione, nello specifico Maria Teresa Tomada e Paolo Bassani, che hanno già chiuso la propria vicenda giudiziaria con un'ammenda, intendeva protestare per la prevista realizzazione di una moschè in Viale Trento. Il caso è sfociato nell'emissione di una serie di decreti penali di condanna. Elena Artioli aveva deciso di impugnare il provvedimento chiedendo di accedere al rito abbreviato, condizionato all'audizione di tre testimoni. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna dell'imputata ad un anno di reclusione. La giudice Carla Scheidle ha disposto invece l'assoluzione. La cosa che io ritengo che finalmente oggi si è capito è che il dottor Bassani aveva un appuntamento. Lui l'aveva concordato con il sindaco, gli aveva detto il giorno prima alle 8 di mattina si erano sentiti, gli aveva detto sì va bene vieni domani che c'è la giunta, vieni alla fine dei lavori, e così è stato e perciò sono contenta che finalmente è venuta fuori quello che è successo. Ascoltata la sentenza, Elena Artioli ha potuto tirare un sospiro di sollievo perché il reato contestatole prevedeva pene detentive fino a 5 anni. Insomma sì perché se aprire una porta e chiedere scusate siamo qui può causare 5 anni di reclusione penso che non sarebbe stato compreso da nessuno.